Pittrice automatica. Carla Bresadola è stata una radioestesista e pittrice automatica che dal 1940 al 60, avvalendosi del pendolo e della tiptologia, ebbe consigli e premonizioni notevoli. Nel 1949 iniziò la sua produzione artistica automatica, eseguita con grande rapidità ed in uno stato semicosciente in cui la sensitiva sembrava sdoppiarsi. Spesso, per la scelta del soggetto e dei colori, si avvaleva del pendolo, che dava i suggerimenti opportuni. Commento Il pendolo, la tiptologia e le altre mantiche sono gli strumenti di cui si serve il sensitivo per esprimere la sua medianità, ma il fenomeno non sono le mantiche, è il sensitivo.